2.952 persone che abitano sui Monti Dauni stanno lottando per il diritto a poter vivere dignitosamente nei loro piccoli comuni. Dignità significa una strada che possa collegare i paesini del pre-Appennino alle città più grandi come Lucera, Foggia e San Severo. Sul gruppo Facebook intitolato Protesta contro le condizioni delle strade della provincia di Foggia si prepara la marcia verso Palazzo Dogana, sede della provincia. I sindaci fino ad ora hanno fatto da mediatori fra cittadini e istituzioni. I finanziamenti pian piano arriveranno, ma ogni giorno migliaia di bambini percorrono strade dissestate sugli scuolabus, così come diversi pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro ed anziani costretti a spostarsi verso gli ospedali dei grandi centri. Strade come la Provinciale 5 sono assolutamente pericolose e impediscono il transito agli autobus a velocità normale. La soppressione di diversi collegamenti su gomma, a beneficio del treno Foggia-Lucera, poi ha bloccato nei propri paesi diverse persone che adesso si stanno organizzando per promuovere un'accelerazione dei tempi di erogazione dei fondi regionali. Una promessa mantenuta a metà equivale ad una promessa non mantenuta, soprattutto quando si tratta di opere pubbliche. È il caso delle numerosissime soluzioni tampone prospettate in provincia di Foggia per sopperire ai problemi di viabilità, alle situazioni di dissesso idrogeologico, alla mancata realizzazione di lavori imprescindibili per i piccoli comuni di Capitanata. La provincia di Foggia e la regione Puglia fanno arrivare promesse, ma non soldi. La situazione, soprattutto dopo le ultime piogge di questo periodo, è tornata esattamente come prima.